L'occhio umano è l'apparecchio fotografico più perfetto che ci sia. Ehi, musogiale! Se il mondo fosse diverso e noi ci potessimo vivere! Tenente lei, tu sei? Sottotenente Flavia Eroldi, quella nuova. Voglio essere riportato a Cella. Do you have a comedy? Well, I do. Adesso comincio a capire come siete fatti voi italiani. Voi non siete fatti per la competizione. Non ho senso. Con l'aereo. Perché i sushi lo preparano i giacchi? Io so di Roma e questa è una trattoria romana. Che cosa farà adesso? Torno a casa. In casa che stai. Voglio finire il lavoro di mio marito. In a few minutes, the darkness will fall across the earth. In casa che stai.